Grazie a tutti. 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 In questa chiacchierata vi ho raccontato che lui era non solo canadese ma anche ebreo ebreo fra l'altro in una nazione a maggioranza inglese ma in una regione del Canada totalmente francofana. Quindi un po' minoritario nella minoranza. E la sua decisione fin dai 19 anni, faccio un po' di recupero per avere un senso le parole di oggi, la sua decisione fin dai 19 anni era stata quella di abbandonare come tanti il Canada per cercare appunto in Europa lo scopo delle sue intenzioni, cioè quello di fare lo scrittore. Ovviamente il primo approdo a quei tempi soprattutto era Parigi, Parigi che era la culla di tanti espatriati nordamericani celeberrimi, inutile citare il solito Hemingway e quanti altri. E chiaramente anche per lui Parigi è stata l'occasione per venire in contatto con questo mondo letterario come lui ambiva di partecipare. Chiaramente poi avrà come tutti i scrittori alle prime armi anche i suoi dispiaceri nel non vedersi pubblicate le prime opere e poi quando verrà pubblicata la prima opera si trasferirà definitivamente a Londra. Che ovviamente è la Londra più spumeggiante di quegli anni, gli anni 60, gli anni 70, la Swing in London, la Londra della vera rivoluzione culturale giovanile fatta di minigonne, Rolling Stones, Beatles, musica e figli dei fiori. E quindi lui in questa atmosfera inizia la sua carriera avendo però sempre un po' la nostalgia di questo Canada che nonostante tutto è sempre presente perché lì sono le sue radici. Nel 1971 pubblica pubblica un ulteriore libro, questo, St. Urbain's Horseman, il cavaliere di St. Urbain. St. Urbain l'abbiamo detto è la via in cui è cresciuto nel suo quartiere di Montreal. E questo libro, questo romanzo ricevette nuovamente un premio, uno forse dei premi più prestigiosi canadese, il Governor General's Award. E fu addirittura nominato per il Booker Prize che proprio a Londra negli anni 70 aveva cominciato ad essere diciamo istituzionalizzato. Il Booker Prize ancora oggi è l'Oscar dei libri per quanto riguarda la Gran Bretagna ma il mondo anglosassone in generale. Questo Cavaliere di St. Urbain's include come sempre molti elementi autobiografici, forse più di tutte le sue opere precedenti e descrive la vita, la vita di un espatriato canadese che vive a Londra ma che cerca di dare anche un senso alla sua vita ormai arrivata alla mezza età. Uno scrittore che pensa di poter cambiare il mondo ha perso la testa. Io non mi faccio illusioni, non renderò il mondo un posto migliore. Questo è assolutamente assurdo. Assurdo come il mondo e è per questo che ne scrivo. Lui era come abbiamo detto un ebreo, essere ebreo a Montreal ha plasmato tutti i suoi sentimenti da quelli politici a quelli culturali e il suo giornalismo, la sua narrativa è sempre intrisa da questa sua matrice originaria. Rimase consapevole tutta la vita che essere ebreo in una società, fra l'altro in una società come quella canadese, era una posizione scomoda. Quando un ebreo è a cavallo. Non è più un ebreo. Gli storici della letteratura considerano comunque la pubblicazione di questo romanzo, Il Cavaliere di Saint-Turban, pubblicazione avvenuta in contemporanea in Canada, negli Stati Uniti e in Inghilterra, come il giorno effettivo in cui nacque la letteratura canadese propriamente detta. Perché il romanzo è già estremamente riceriano, non c'è la cronologia della trama, l'autore spazia nel tempo andando su e giù nei momenti in tutta libertà, e inserisce molti personaggi che hanno delle loro microstorie che non appartengono magari alla storia più grande che ci descrive il romanzo. Il romanzo parla di Jake Hirsch, che a 37 anni non ha molto da rimproverarsi. Proviene da un ambiente modesto, gode di una piccola reputazione nel mondo del cinema, e vive giorni felici a Londra insieme a una bellissima moglie Nancy e ai loro tre figli. Ma quando una giovane donna tedesca lo accusa falsamente di essere oggetto della sua violenza sessuale, la vita di Jake inizia ad essere sotto processo. Per sfuggire ai tanti rimpianti che lo opprimono, alle cause legali che minacciano lui e la sua famiglia, e quindi anche la sua carriera, decide di tornare a Montreal, la sua casa di origine, e fra l'altro ritorna a Montreal per il funerale del padre. Si sentiva anche come se Rip Van Winkle fosse tornato in un mondo innocente e ordinato, che aveva erroneamente creduto estinto ormai da tempo, dove Dio vegliava su tutto, facendo le sue somme, dove tutto si adatta, anche l'Olocausto, che dopo tutto aveva creato lo Stato di Israele, dove lo schiaffo non era a sua effazione, ma ciò che meritava un bambino irrispettoso. La pentola era quello in cui hai fatto bollire la zuppa di pollo, e il campo era dove mandavi i ragazzi d'estate. Le zie si telefonavano ancora ogni mattina per dire che tipo di torta stavano cuocendo, chi aveva superato questo esame, chi era sopravvissuto all'operazione. Uno scandalo fu quando un cugino di primo grado fu invitato al bar mitzvah, ma non alla cena. L'eloquenza era incarnata dal sermone del rabbino. Ignoravano le arti, erano ben vestiti, infagottati, e il loro gusto era terribilmente pessimo. Ma all'interno del loro mondo autonomo c'era ordine. E tutto, tutto funzionava. Tornato nella sua terra di origine, si ritroverà a fantasticare sulla vita poi di un cugino, il cugino Joey. Questo ex delinquente dei vicoli di Montreal diventerà, nell'immaginazione di Jake, il cavaliere di St. Urban, eroe della guerra civile spagnola, uccisore di nazisti, che non esiterà a rintracciare il famigerato dottor Mengele ai confini della giungla sudamericana. Con questo romanzo Richler fu consacrato come un provocatore sfrenato, uno spietato satirico, un moderno rabble canadese che con ferocia e impertinenza si immerge nell'effervescenza di questi anni 60 e dipinge il ritratto di un'intera generazione schiacciata dalla sensazione di essersi quasi persa ai grandi sconvolgimenti del tempo in cui vive. Presenta dei personaggi che sono delle vere e proprie macchiette, anche se molto problematici, perché il suo interesse, l'interesse di Richler ancora una volta, è di fare satira sociale, di denunciare il conformismo ormai dilagante. St. Urban's Horseman fu l'ultimo romanzo che scrisse in Inghilterra e quando lo finì sapevo che non avrei più potuto farne un altro da Londra, perché non era lì che io ero cresciuto. Quindi dopo due decenni all'estero, mentre si trova comodamente a Londra con la moglie e i cinque figli, Richler vede la compagna espatriata Doris Lessing, la vedete qua in due belle fotografie di quando era un po' più giovane e poi un po' meno. E si vede con Doris che le confessa di avere perso un po' il contatto con il mondo reale che l'ha nutrita. Inorridito nel trovarla a scrivere di alieni e da altri mondi, terrorizzato dal fatto che una tale trasformazione potrebbe anche accadere a lui se rimane ancora all'estero, invita sua moglie a una cena elegante e tra un piatto e l'altro, e soprattutto una buona bevuta di vino, le annuncia che ha deciso di ritornare a Montreal. Ho scoperto che altri scrittori espatriati del Commonwealth che hanno trascorso fin troppo tempo a Londra, scrittori che rispettavo, sono stati spinti a comporre romanzi ambientati nel passato biblico o su pianeti immaginari. Sono preoccupato di essere così lontano dalle radici del mio malcontento. Florence, la moglie, aveva già immaginato di vivere per il resto della sua vita a Londra dove si trovava splendidamente, invece ancora una volta vedeva che il destino della sua famiglia era sottomesso alle esigenze del lavoro creativo di Mordecai. Quando ho deciso di ritornare in Canada, nell'estate del 1972, Richler, per non dissanguare le proprie finanze con un viaggio aereo, allora molto costoso, soprattutto in considerazione del fatto che la sua famiglia contava sette componenti, allora per risparmiare prenotò il viaggio da Londra a Montreal sul transatlantico sovietico Alexander Pushkin. Comprò biglietti di prima classe, ma una volta a bordo fu informato che le navi sovietiche avevano una sola classe. A bordo, tra l'equipaggio e i pochissimi passeggeri, scorreva ogni sera vodka e caviale a fiumi, con l'entusiasmo di Mordecai che mise addirittura a disposizione tutto il whisky e lo champagne che si era portato. Non aveva invece portato con sé i suoi libri, lasciati quasi tutti a Londra, dividendoli tra alcuni amici e conoscenti per custodirli fino a un suo probabile ritorno. Ahimè, di quei libri non ne rilide più nessuno. Nel 1972 sono tornato in Canada perché di fatto non sapevo più da dove venivo, ma non voglio paragonare la vita a Montreal con quella di Londra o di Parigi, naturalmente non è altrettanto ricca, non è altrettanto interessante, ma lì sono le mie origine, è da lì che vengo. Voglio dire che non c'è un giudizio di valore che mi ha spinto in Canada, ma ho dei legami profondi con quel posto, senza del resto averlo deciso io, non avrei mai scelto di nascere in un posto dove fa freddo per così tanti mesi all'anno. In Canada però ho una società molto più ricca a mia disposizione, parlo anche con l'idraulico, il falegname, i contadini, i dentisti, gli avvocati, insomma parlo con la gente, una cosa importante se si vuole scrivere romanzi. A 41 anni se ne torna quindi in Canada, si stabilisce a Montreal, nella città che lui sosteneva fosse la più culturalmente sofisticata dell'intero Canada e durante gli ultimi tre decenni della sua vita, per la maggior parte dell'anno, fu residente con la moglie e i figli proprio lì a Montreal, anche se trascorreva gli altri sei mesi nella sua amata Londra, dove aveva mantenuto comunque la sua casa di Kingston Hill. Il Canada di allora era in un grande risveglio culturale, un periodo nota come l'era del nazionalismo culturale. Sebbene Richler fosse critico anche di questo fenomeno, contribuì proprio lui a definire il nuovo Canada letterario e ne beneficiò per primo al suo manifestarsi. In questi anni si dedicò ancora molto alle sceneggiature, al giornalismo, compilò e modificò antologie e pubblicò anche una raccolta di articoli che erano apparsi su diverse testate negli anni precedenti, dandogli il titolo dei problemi di spalatura, shoveling trouble. Ai canadesi piace vedersi come gli scozzesi del Nord America, gente astuta, sobria, frugale, distruzione superiore, che per virtù calvinista silenziosamente erediterà il ventunesimo secolo. L'abbiamo già detto, Richler amava il whisky, i sigari, la squadra di hockey su ghiaccio del Montreal Canadien e anche se i suoi passatempi preferiti erano questi, soprattutto c'era il poker e lo snooker, quella specialità di biliardo molto diffusa, soprattutto nel Regno Unito, in Irlanda, in altri paesi del Commonwealth e il Canada ovviamente compreso. E al di là di queste sue passioni, quasi inaspettatamente nel 1975 lui se ne esce con un romanzo per bambini, un romanzo per bambini che ha un titolo strano, Jacob 2-2 contro Zanna incappucciata, che forse era iniziato un po' come una storia che lui raccontava la sera al figlio più giovane, ma divenne rapidamente un classico della letteratura per l'infanzia canadese. C'era una volta un bambino che si chiamava Jacob 2-2. Jacob 2-2 aveva 2 più 2 più 2 anni. Aveva due occhi, due orecchie, due braccia, due piedi e due scarpe. E in più aveva due sorelle maggiori, Emma e Marfa, e due fratelli maggiori, Daniel e Noah. E tutti quanti abitavano in una vecchia casona a Londra, in Inghilterra. Jacob 2-2 era quasi sempre contento, ma certi giorni, certi giorni no, diventava molto triste, perché vedeva che gli altri bambini di casa erano tutti più alti e molto più capaci di lui. Non solo i fratelli, ma addirittura le sorelle sapevano andare in bicicletta senza le rotelle, fare un numero di telefono, fischiare, scrivere in corsivo, giocare a dama e acchiappare una palla. C'è da dire però che la vita stava diventando più sopportabile. Una volta Jacob 2-2 non arrivava nemmeno a suonare il campanello di casa. E fino a due anni prima, quando aveva solo due per due anni, non sapeva nemmeno che cos'era un giorno, quando finiva ieri e quando veniva domani. Una mattina, appena sveglio, aveva chiesto alla mamma «Oggi è domani?» «No, tesoro, oggi è oggi». «Ma quando sono andato a dormire, mi hai detto «Quando ti alzerai sarà domani». Me l'hai detto, eh? Me l'hai detto tu!» «Sì, ma era ieri». «Tu hai detto che era oggi». «È vero!» «E questo giorno qui sarebbe stato domani». «Ma se hai appena detto che oggi è oggi!» «Se hai appena detto che...» «Oh, Jacob!» «Lo aveva interrotto la mamma dandogli un bacio!» «Certe volte sei proprio impossibile!» «Povero Jacob!» Lui è un bambino ancora piccolo, a 2 più 2 più 2 anni, che deve sempre dire le cose due volte, perché con tutta la gente che abita a casa sua, due genitori, due fratelli, due sorelle grandi, la prima volta non lo sente mai nessuno. È un bambino che in quanto tale non è ancora capace di fare un sacco di cose, non sa andare in bicicletta senza rotelle, fare un numero di telefono, fischiare, scrivere, giocare a dama, e quindi è considerato un peso dagli adulti e si sente lui stesso fin di troppo. Anche se adesso aveva 2 più 2 più 2 anni e sapeva tante cose più di prima, Jacob 2.2 non aveva ancora il permesso di contare i cappotti da portare in la vanteria né di attraversare la strada da solo e non poteva nemmeno fare le commissioni per la mamma e il papà, come facevano i suoi fratelli. Adesso riusciva a versarsi il latte nella tazza senza farlo sgocciolare fuori, ma non sapeva ancora tagliarsi una fetta di pane che non fosse alta un metro da una parte e sottile come un foglio dall'altra. Certo, a tavola ora stava seduto su una sedia normale, ma che vantaggio c'era se con gli occhi arrivava poco più su del piatto e i piedi gli dondolavano stupidamente senza toccare per terra. Oltretutto, quando si arrabbiava per qualche ingiustizia e dava un pugno a Daniel o a Emma, loro non chiamavano più la mamma, neppure gli restituivano il pugno, sghignazzavano e basta. Il romanzo divenne molto popolare, tanto che vinse il premio Ruth Schwartz Children's Book Award del 1976. È stato trasformato prima in un piccolo spettacolo teatrale, e poi in un film nel 1978 e un altro nel 1999. A quel primo romanzo, visto il successo, seguivano altri due libri per l'infanzia, Jacob 2.2 e il dinosauro, Jacob 2.2 agente segreto, uno dell'87 e l'altro del 95, e da questi romanzi ne uscì anche una serie a cartoni animati. Mordecai Richler però voleva essere un testimone onesto del suo tempo e non disdegnava le polemiche, perché riteneva che uno scrittore dovesse essere rumoroso, abrasivo, brillante. Insomma, doveva farsi sentire. Nel 1967, quando il presidente francese dell'epoca, il generale de Gaulle, si alzò su un balcone a Montreux e le proclamò alla folla sottostanta «Vive le Québec libre!», Richler non era stato granché entusiasta. Secondo il suo amico Ted Kutch, Richler una volta spiegò che non era sufficiente essere contro un partito politico o una causa alla moda. L'importante, lui sosteneve, essere soprattutto contro tutti. Si trovò quindi spesso in conflitto con la comunità ebraica, con i nazionalisti canadesi-inglesi, i nazionalisti francesi del Québec. E lui, nonostante la sua fuga giovanile a Parigi, si rifiutò sempre di imparare il francese. Così, in articoli pubblicati tra la fine del 1970 e la metà del 1990 partecipò alle polemiche suscitate dalle leggi linguistiche restrittive del Québec e all'ascesa del separatismo in questa zona del Canada, schierandosi fin da subito contro i membri del movimento nazionalista del Québec. Richler nel 1974 aveva acquistato una casa di campagna sul lago Memphremagog, nelle Eastern Townships, Cantons de l'Est, come si dice in Québec. Lo strano nome di questo lago deriva dal fatto che la zona, la zona del sud del Canada, molto vicino al confine americano, la zona era abitata dagli indiani abenaki, che popolavano il lago e il grande fiume e che avevano chiamato Memphremagog, che in lingua abenaki voleva dire vasta distesa d'acqua. Delle sue tre residenze, Montreal, Londra e Memphremagog, questo fu il luogo che a partire dal 1979 divenne il suo rifugio dove si metteva da solo a scrivere per allontanarsi dalle distrazioni della città. Divenne una vera e propria abitudine per lui ritirarsi lì sul lago, tanto che negli anni 90 il suo ufficio di Montreal era stato relegato a svolgere soltanto lavori piccoli, come rispondere a lettere o scrivere brevi articoli. Trascorreva poi gli altri sei mesi dell'anno a Londra, dove si dedicava ancora attivamente al giornalismo, ma l'attività più faticosa, quella di scrivere romanzi anche molto divertenti, come sappiamo, la svolgeva interamente nel suo cottage sul lago. La casa aveva un'enorme vetrata che offriva una vista totale della paia di Sargent e negli anni si riempì letteralmente di libri. Tutti quei libri che comprava per ricerca, per piacere, e le centinaia di volumi che gli arrivavano in dono da autori e amici. Durante il suo lungo mandato come giudice presso il Book of the Month Club e più tardi come editorialista per la rivista JQ, di libri ne arrivavano in quella casa in continuazione. La libreria così si ampliava di smisura con scaffali che andavano dal pavimento al soffitto, tanto che i libri erano ovunque, dalla cucina al solarium. Lì la sua vita scorreva tranquilla e abitudinaria, come confessava. Fumo sigari, bevo whisky McCullum, ma non quando scrivo, il che vuol dire la maggior parte del tempo. Insomma, faccio una vita molto tranquilla. Mi sveglio tutte le mattine e lavoro a casa. Poi tra le tre e le quattro vado a fare una passeggiata, mi fermo da qualche parte, ho un bar, prendo un drink, leggo i giornali e poi torno a casa. Tutto qui. Questa è la mia vita. Mettendo ancora una volta temporaneamente da parte un libro più ambizioso che rimuginava da tempo, e vedremo di che cosa si tratta, nel 1980 Richler scrisse rapidamente e pubblicò un ulteriore libro così detto scabroso che aveva un titolo Joshua, Allora e Oggi. Un'altra opera che aveva parecchi elementi autobiografici, esplora la vita di uno scrittore ebreo canadese che fa i conti con il proprio passato. Anche se aveva appena completato questo suo tattilo scritto, quando fu chiamato al telefono e mentre parlava diede accidentalmente fuoco al romanzo con un sigaro malmaneggiato. E' vero, è vero. Sono sempre stato attratto da quei personaggi che dimostrano prima di tutto un vero e proprio appetito per la vita. Persone che cercano di godersi la vita e che si rendono conto che stanno facendo soltanto un viaggio. Trovo molto più facile scrivere di truffatori, l'ho fatto per molto tempo. E' molto più facile che scrivere di santi che tendono ad essere, ahimè, molto noiosi. che cosa ci fa Joshua Shapiro in un letto d'ospedale della sua Montreal con le costole spezzate e la memoria offuscata. Sul suo conto circolano voci che sembrano minare la sua reputazione. Qualche faccenda illecita, uno scandalo omosessuale, la sparizione della sua adoratissima moglie è solo scavando nel passato che il protagonista troverà le sue risposte. Guardatemi adesso, pensava Joshua. La gamba destra non era più appesa mediante puleggie al soffitto di una stanza d'ospedale, ma era ancora ingessata. Dalla sua età le fratture multiple faticano a saldarsi. Niente più cannule che fuoriuscivano dalle narici che lo nutrivano per endovena o gli drenavano i polmoni. Un gorgogliare di sangue ad ogni respiro. Continuava a rimuginare su tutto il sangue che gli avevano pompato in corpo, sei litri di sangue altrui. Allagava i suoi sogni, insozzava le sue ore di veglia. Con ogni improbabilità, una parte di quel sangue l'ospedale se l'era procurata comprandolo da ubriaconi senza un soldo o drogati. Finirò sicuramente col beccarmi un'epatite, pensò. Se no, peggio. Sebbene le costole rotte stessero guarento o così gli assicuravano, tossire però rimaneva un supplizio. Il gesso che imprigionava il braccio destro gliel'avrebbero tolto soltanto martedì, ma poteva già muovere le dita della mano. C'erano posti che riusciva a grattarsi da solo e se gli mettevano una rivista sul leggio era addirittura in grado di voltare le pagine. Peccato che Time, pur non essendo più un obrobio come all'epoca in cui fustigava Atrae Stevenson e si spellava le mani per il senatore Joseph McCarthy, sia benedetta la sua memoria, peccato che Time non fosse granché divertente adesso che era diventato un giornale così per bene. Tanti nobili discorsi di sinistra e non raccontava più quelle belle guerre ingiuste che almeno ti permettevano di tifare per gli oppressi. Il cranio rasato di Joshua, le cui fratture si erano ormai saldate, era stato liberato dalle bende. Il letto non era più circondato da medici pieni di premura, sulle facce un'espressione grave che parlottavano tra loro a bassa voce aggrottando la fronte china sui diagrammi anche quando gli chiedevano come si chiamava, il giorno della settimana o l'età dei suoi figli. Alex, diciotto anni, Susi, quattordici, Teddy, dieci, non sarò più scemo di quanto fossi prima, pensò. Magra soddisfazione, ma almeno aveva chiuso con la padella. Se lo si aiutava alzarsi e si muoveva lentamente un passetto dopo l'altro, adesso era in grado di andare in bagno da solo. Solo il martedì precedente il letto all'hotel di Joshua era stato infilato alla chitichella in un ascensore e lui era stato caricato su un'ambulanza in attesa davanti a una porta sul retro del Montreal General Hospital. Dopo aver attraversato il Champlain Bridge, aveva imboccato la ben nota Route 10, l'Ottoroute del Canton de l'Est, diretti al cottage sul lago Memphremagog. Pura beatitudine. Precariamente sistemato in posizione seduta, ad esso Joshua vedeva il lago da una finestra e non più una sfilza di inaspriti setuagenari che si trascinavano in un corridoio d'ospedale per assicurarsi un'efficiente mobilità intestinale, come se questo bastasse a scongiurare un carcinoma. Il ghiaccio, il ghiaccio si era spaccato ma appena una settimana, ma vele gonfiate dal vento sfregiavano già nella baia. C'erano anche degli uomini su piccoli battelli ancorati a largo, per lo più autentici pescatori che facevano la posta ai persici, ma qualcuno armato di teleobiettivo faceva invece la posta a lui, Joshua Shapiro, Esquire. C'era persino chi era venuto da Fleet Street per aspettarlo allo Hatchley Inn pretendendo salmone affumicato a colazione, salvo poi lamentarne a gran voce l'eccessiva fibrosità e inzeppando il fondo delle valigie con gli asciugamani dell'albergo. Gli uccelli erano tornati. Nelle prime ore del mattino quando nel cottage erano ancora tutti a letto, lui guardava l'unica strolaga superstite del lago roteare sull'acqua e tuffarsi per acciuffare un mirasole o uno sperlano. Una volta vide un cardellino mattiniero volteggiare tra le betulle in fiore. La sera comparivano i petti rossi che si cibavano di ragni d'acqua. Non poteva vedere Susi e Teddy sul molo sotto il cottage, malgrado si sforzasse restavano fuori dal suo campo visivo ma gli arrivavano gli strilli di Susi tutte le volte che Teddy prendeva un persico e li benediceva. Stava migliorando. Non c'era nessun dubbio. Una mattina con l'aiuto di Ruben riuscì addirittura ad arrampicarsi in maldestramento maldestramente fino al suo studio in cima alle scale combattendo lo stordimento e cercando l'assicurazione negli oggetti che gli erano così familiari. Fotografie incorniciate di pugili di giocatori di hockey e di baseball. Joshua nasce in una famiglia ebraica nel quartiere popolare di St. Jordan da padre pugile poco ortodosso incline agli illeciti e da madre ardita e anticonformista che passa da un amante all'altro per poi diventare spogliarellista e addirittura porno star. Inseguendo il sogno della carriera giornalistica Joshua aprò da prima in Spagna poi a Londra dove incontra e sposa la splendida Pauline Hornby figlia di un senatore canadese. Anche se quando a Joshua viene chiesto sei sposato lui risponde a volte. La vita di Joshua è in ascesa la carriera di giornalista decolla il matrimonio va a gonfie vele e una volta rientrato a Montreal ritroverà anche gli adorati amici della sua infanzia ma la vita riserva sempre una sorpresa dopo l'altra. Frizzante dissacrante ironico sagace la satira colpisce con cittadini politici convenzioni sociali con uno sguardo particolarmente critico verso l'insulso separatismo francese del Quebec e Mordecai esclama ho visto il futuro e non funziona. Ma dove Richler affonda la penna senza pietà è quando si rivolge a un altro popolo il suo quello ebraico e non perde occasione per ironizzare su questa gente che si sente legata da chissà quale vincolo universale e divino. nei suoi romanzi ha descritto gli ebrei di Montreal in modo meno che lusinghiero motivo per cui generalmente ha suscitato la loro rabbia e il loro disprezzo. Carte di credito con tatuaggio disse Joshua con un largo sorriso scusi per come la vedo io il grosso problema delle carte di credito è che la gente le perde o gliele rubano pensi a quanto si potrebbe risparmiare tatuando il numero della carta sul braccio del cliente. Naturalmente continuò Joshua incoraggiato è un'idea che avrebbe bisogno di essere sperimentata ma penso che la Germania sarebbe il terreno ideale avete già in abbondanza i tecnici che vi servono. Richler come ho già detto era ebreo ma non era ben visto dai suoi corregioni correligionari anzi proprio da questi ultimi veniva accusato di mettere costantemente in cattiva luce proprio gli ebrei e anche in questo romanzo trapela tutto il suo sarcasmo nei confronti della vita sempre tra il tragico e lo spiritoso. I rabbini che un tempo ti tiravano le orecchie se ti sedevi a tavola senza prima aver pronunciato le benedizioni prescritte adesso scrivono libri in cui raccontano tutto quello che avevi sempre voluto sapere sul cunnilingus e assicurano ai fedeli che dopo aver consultato rabbia Kiva e aver preso nella dovuta considerazione i maimonide ritengono che non c'è nessuna violazione delle regole alimentari nel mangiare la propria moglie anche se non aveva lo zoccolo fesso. Insomma l'ironia colpisce tutto e tutti e non risparmia nessuno nella sua critica alle convenzioni e ai conformismi e anche di questo romanzo Richelor scrisse la sceneggiatura di un film uscito nel 1985 un film che però non ebbe quasi alcun successo. Nel 1987 intanto usciva quel suo secondo libro per bambini Jacob 2.2 è il dinosauro qui Jacob è cresciuto ha cambiato casa scuola addirittura continente ha un nuovo amico molto particolare e quando la sua vita sarà in pericolo toccherà proprio a Jacob 2.2 difenderlo e far sì che giunga sano e salvo a destinazione. Bisognerà quindi aspettare ancora due anni per vedere comparire un nuovo romanzo di Richelor infatti comparirà solo nel 1989 quando pubblica Salomon Galski è stato qui un'epopea familiare dilatata nell'arco di due secoli apprezzato della critica dalla critica come i precedenti sia per lo stile che per la trama e il romanzo continua a dipingere scenari di famiglie ebrei nel contesto canadese alcuni l'hanno definito il cent'anni di solitudine ebraica e il racconto abbraccia addirittura due secoli due secoli due sponde dell'Atlantico cinque generazioni di una dinastia ebraica in cui tutto ha smisurato la vitalità la ricchezza il lusso i Galski sono una famiglia che ha costruito la propria immensa fortuna ai tempi del proibuzionismo contrabbandando alcol tra Canada e Stati Uniti e gestiscono un impero economico che ha pochi rivali ma hanno parecchi scheletri nell'armadio il romanzo è un'epopea di tre generazioni con numerosi personaggi da Solomon pecora nera dato per morto che periodicamente appare legato agli avvenimenti più importanti del XIX secolo poi al fratello Bernard che costruisce con le sue speculazioni l'impero economico familiare a Ephraim nonno dei due ebreo di origine russa vissuto di espedienti nella Londra vittoriana imbarcato per la sfortunata spedizione artica dell'Aerobus e del Terror alla ricerca del passaggio nord-ovest che riconosce come suo unico erede spirituale proprio il suo avventuroso nipote Solomon trascinandolo in un viaggio odissea al di là del circolo polare artico a quanto pare i gaschi hanno partecipato a quasi tutti i grandi momenti della storia canadese e mondiale dalle prime esplorazioni artiche alla lunga marcia di Mao al Watergate a Entebbe se i gaschi non erano presenti alla creazione da allora non hanno però mai perso un colpo passato e presente si intrecciano si sovrappongono ma tenere insieme il filo della narrazione ci pensa all'indole critica di Moses Berger scrittore brillante ma rovinato completamente dall'alcol ossessionato dalla vicenda di Solomon incapace di portarne a termine la biografia nonostante tutto il materiale raccolto in una vita di lavoro perché passa fin troppo tempo a ubriacarsi e a dedicarsi alla sua unica passione la pesca a Mosca Moses continuò a frugare tra le carte della scrivania nell'ultimo cassetto in basso pieno di lettere furibonde scritte al suo editore e mai spedite ritrovò la fiaschetta d'argento per il cognac e un assegno di cento sterline da parte del Time Literature Supplement il pagamento per una recessione che ormai aveva dato per perso poi sotto tutto il resto trovò il memoriale manoscritto di Mr. Murray per indurlo a stenderlo ricordava Moses aveva dovuto fare i salti mortali e il risultato era ridicolo un capolavoro di evasività ma ci si poteva ricavare qualcosa come i creminologi ogni tanto riuscivano a cavare una perla di verità anche dalla prafta l'analogia piacque a Moses perché alla fine quello che se non altro lui era diventato oltre che un degenerato ubriacone e un cornuto era un garschilologo l'unico armato di un acciarino in mezzo a quella catasta di legna secca che erano gli agiografi in particolare Moses Berger tenta di far luce sulla scomparsa di Solomon Garsky uomo dalla straripante personalità che fonda il lucroso business dei liquori poi ereditato o usurpato principalmente dal fratello il fratello Bernard Bernard non sopporta che il suo fratello Solomon sia più bravo di lui più calmo di lui più seduttore di lui che si diverta e se li goda tutti quei soldi e che in più distribuisca un sacco di bigliettoni ai profughi ebrei che iniziano ad arrivare dalle persecuzioni naziste che addirittura gli alloggi negli alberghi gli compri fattorie dove lavorare la terra insomma che stia appiccicato alla radio per le notizie dall'Europa e che cerchi di corrompere i politici perché rilascino nuovi permessi e ingressi agli immigrati Bernard pensa soltanto al business e vuole essere lui il solo comandante vuole essere lui il boss così complotta e cerca di incastrare Solomon che un giorno scompare misteriosamente a bordo del suo aereo personale in una notte di bufera Solomon viene dato per morto ma la cosa non convince Moses Berger che incomincia ad indagare in questa sua ricerca viene ripercorso un po' la storia dei Gaschi lungo cinque generazioni a partire da Efraim sciamano ebreo eschimese cantore di Minsk borseggiatore di Londra prigioniero di Newgate falso predicatore millenario e mitologico fondatore della dinastia che è bloccato nell'Artico convince alla fine un gruppo di eschiumesi inuit a diventare ebrei le cose però vanno male durante lo Yom Kippur il giorno dell'espiazione quando gli ebrei osservanti digiunano fino al tramonto nell'Artico il sole non tramonta per mesi e mesi e i neoconvertiti sono spinti quasi a morire di fame ciò che emerge nitidamente nel romanzo è l'epica delle esplorazioni artiche lo spirito dei pionieri che si stanziarono in Canada nel diciottesimo e diciannovesimo secolo costruendo una nazione dove c'erano soltanto tundra e ghiacci ma anche distruggendo le popolazioni autotone lì presenti i cattivi sono più numerosi degli eroi in questo libro e Richler mette in scena la stupidità il tradimento la tirannia soprattutto l'avidità la rapace fame di denaro e di potere perché come nota Solomon scava abbastanza in profondità nel passato di qualsiasi famiglia nobile e John Bernard alla radice il fondatore con le unghie sporche l'assassino Bernard violento e senza scrupoli è il prototipo di questo cattivo che poi alla fine sul letto di morte dovrà confessare alla moglie Bernie Bernie credi in Dio come puoi dire stronzate simile in un momento come questo non sono stronzate tesoro mio non sono stronzate dice lei ma non capisci ma non capisci proprio niente se Dio esiste io sono fottuto nel romanzo c'è tutta la sua rabbia impotente la sua ironia i sigai l'occhi l'alcol tanto alcol come sempre oltre ai suoi ebrei canadesi sempre pronti a reagire Ricky Wasp con la puzza sotto al naso non si permette a simili confidenze con me disse Solomon e con un affondo prese il colfista per la gola e lo sbattò contro la parete quando i tuoi antenati ancora brindavano alla loro salute in coppe piene del proprio sangue quando abitavano in tuguri d'argilla dormivano su tavoli di legno avvolti in luride coperte erano già cent'anni che Maimonide aveva scritto la guida dei perplessi e lo lascia andare strillò la moglie del colfista quando i tuoi bisavoli costringevano i bambini a portare amuleti contro il malocchio e accendevano un cerchio di fuoco attorno al bestiame per tenere alla larga il mal al mal Spinosa aveva già scritto l'etica per favore mister Gaschi lo sta soffocando il nonno romanzo di Mordecai Richler non solo inizia e finisce al lago Memphra Magog del Quebec ma è stato in gran parte scritto proprio lì dopo tre intensi anni di scrittura ho iniziato ho iniziato a lavorarci a metà degli anni settanta ma non sarei arrivato così lontano perché sapevo che mi sarei fermato quindi l'ho messo da parte per un po' per scrivere Joshua all'ora e ora poi circa cinque anni fa ho ricominciato a lavorarci prima avevo scritto centocinquanta pagine di cui forse quaranta pagine sono andate nel libro finito un romanzo del resto continua a cambiare quando uscì nel 1989 il romanzo sconvolse la scena letteraria canadese un po' per tutto dalle nove trame distribuite su un arco di duecento anni alla oltraggiosa riscrittura della storia ebraico canadese al ritratto non così nascosto della famiglia canadese Bronfman la famiglia più ricca del paese i Bronfmans hanno fatto fortuna con il business del Seagram's Whiskey e in seguito hanno costruito un vero e proprio impero un impero di intrattenimento ad ampio raggio tra cui grandi partecipazioni nella Universal Studios in Time Warner e un membro della famiglia Edgar Bronfman servì anche come capo del congresso mondiale ebraico il libro arrivò ancora finalista al Booker Prize di quell'anno ma non riuscì a vincere il premio anche se fu incoronato dal Commonwealth Writers Prize nel 1990 Richler comunque lo considerava il suo romanzo migliore quando pubblicò Solomon Gaschi lui era ormai un nome familiare in Canada specialmente nel Quebec francofono dove il suo status di commentatore pungente e beffardo nei confronti del movimento nazionalista gli aveva fatto guadagnare molte inimicizie al contrario per i canadesi di lingua inglese di Montreal lui era una specie di eroe riluttante che difendeva a suo modo in suo modo candido ed irascibile la comunità inglese la loro città e un Canada ancora unito il romanzo era dedicato a Florence la sua adoratissima moglie il mio primo editor è mia moglie su cui faccio molto affidamento prima di tutto prima di inviarlo ho letto il romanzo due volte e ho tagliato quasi 20.000 parole circa 50 o 60 pagine e poi ho fatto vari piccoli tagli su consiglio dei redattori a chi gli chiedeva perché scrivesse ancora romanzi Pritchler semplicemente rispondeva beh la gente si è chiesta cosa succederà al romanzo per 200 anni la sua morte è stata annunciata mille volte sai penso che il romanzo continui a ridefinire il mondo in cui viviamo quello che dovresti cercare in un romanzo è una specie di finestra da cui nessun altro sta guardando fuori o nessun altro può guardarci attraverso quello che cerchi è una voce prendi un romanzo di qualcuno come Faulkner o Hemingway leggi solo tre pagine e sai già chi l'ha scritto ed è quello che si dovrebbe chiedere a tutti i romanzieri anche se ogni romanziere è diverso penso che una delle migliori scrittrici di questo paese sia Alice Munbro e Alice scrive dell'Ontario dell'Ontario rurale un mondo di vite ordinarie vite noiose ma lei lei riesce a rendere queste vite affascinanti a un lavoro molto più difficile del mio credo perché io scrivo di persone fuori misura che usano un linguaggio colorato e sapete io ho grande ammirazione per Alice Florence pensava che Mordecai possedesse una profonda capacità di giudicare molto bene le persone diceva che lui aveva un rivelatore di merda sebbene lui potesse riempire una stanza con la sua grande personalità era timido e riservato non era sicuramente un parlatore per la moglie era una persona molto molto difficile da frequentare e lei lo aveva capito fin dall'inizio aveva capito che la dedizione al suo mestiere veniva prima di qualsiasi altra cosa tra un romanzo e l'altro collaborava a modo suo ad autorevoli testate giornalistica dell'America settentrionale occupandosi di temi che spaziavano dalla cultura al costume anzi per quanto incredibile possa sembrare Richler in Canada era molto più famoso per lo stile tranchant dei suoi articoli che per i suoi romanzi in effetti lui sapeva come pochi altri usare l'arma dell'ironia di quali argomenti predilige occuparsi quando scrive per i giornali chiese una volta un compitissimo cronista a Mordecai Richler di quelli per cui mi pagano meglio fu la sua risposta eccoci qua